ciao a tutti oggi ho preparato la mia dorata crema pasticcera con la quale farcisco sempre i miei dolci ma l'ho preparata in un modo inusuale e molto pratico vediamo come ci servirà semplicemente un mix oppure un frullatore abbastanza capiente nel quale aggiungiamo tutti gli ingredienti 500 ml di latte 125 g di burro due uova intere 125 g di zucchero semolato 50 g di amido di mais e una bustina di manillina e frulliamo il tutto per pochi secondi ad una velocità media dopo aver frullato il burro apparirà in superficie con questa consistenza versiamo quindi tutto il composto all'interno di un pentolino e portiamo sul fuoco aggiungiamo la scorzetta di un limone e a fiamma media iniziamo a mescolare finché il burro si sciolga completamente e la crema si addensi togliamo quindi la scorzetta di limone versiamo la crema pasticcera in un piatto oppure in una ciotola copriamo con la pellicola a contatto e trasferiamo in frigo finché la crema si raffreddi completamente quando la crema si sarà affreddata mescoliamo con un cucchiaio per ammorbidirla e da questo momento in poi potete farcire tutti i vostri dolci provatela delicata e squisitissima sono sicura che piacerà anche a voi con questa crema farcirò le mie zeppole di san giuseppe bicolore quindi iscrivetevi al mio canale cuciniamo con maria pia su youtube e seguitemi ci vedremo presto ciao